Buongiorno a tutti, le piazze, egnissima chiusura in progresso per le piazze finanziarie europee che danno seguito a rally registrano nelle ultime sedute, un DAX che chiude a più 0,13% un IBEX a più 0,24%, un CAC di Parigi a più 0,67%, un FUZI Londra a più 0,45% e un FUZMIB che chiude a più 0,70% Per quanto riguarda invece le news macroeconomiche che sono state rilasciate nel corso della giornata abbiamo il tasso di disoccupazione dell'Eurozona che nel mese di novembre si è attestato all'8,7% in calo rispetto all'8,8% di ottobre e al 9,8% del mese di novembre dell'anno scuro, del 2016 mentre poi durante la sessione americana è stato elaborato l'indice che misura le offerte di lavoro JODS, ovvero il Job Opening and Labor Turnover Summary che è sceso ulteriormente passando dai 5,93 ai 5,88 milioni di unità domani invece, mercoledì 10 gennaio abbiamo alle ore 10.30 dalla Gran Bretagna un tripolo appuntamento con la produzione industriale e manufatturiera poi il saldo della bilancia commerciale tutti e tre gli indici fanno riferimento agli indici del mese di novembre mentre alle 16.30 invece abbiamo le scorte di petrolio grigio americane bene, passiamo subito a vedere quello che è successo per quanto riguarda il Future Dollar Index allora, praticamente conferma la movimento realzista odierno il rimbalzo su questa zona supportiva cioè tra 91.30 e 91.70 in questo momento il prezzo si trova a 92.25 molto probabilmente potrebbe continuare questo movimento realzista quindi questa fase di apprezzamento di breve e medio termine anche durante le prossime sedute di trading di questa settimana tale situazione se andiamo ad analizzare invece l'euro-dollaro eccoci qua, vedete sul giornaliero si evidenziano tre sedute consecutive quindi venerdì, lunedì e oggi con tutti i breakout, tre breakout massimi chiusure che rompono i minimi precedenti tale situazione evidenzia che la movimentazione appunto potrebbe continuare anche nelle prossime sedute di trading ovviamente il punto da prendere in considerazione adesso qual è nelle prossime sessioni è proprio 1.18.919 dove appunto passa un supporto e il livello 50 dove praticamente sono andato a tracciare del Fibonacci dall'ultimo minimo relativo fino all'ultimo massimo quindi questa è una zona dove fondamentalmente potrebbe terminare questa fase di correzione all'interno del movimento realzista più importante mentre per quanto riguarda altre indicazioni abbiamo, andiamo a vedere un po' il dollaro yen che cosa è successo beh, sul dollaro yen c'è stata questa rottura oggi forte dovuta appunto a una fase di apprezzamento dello yen che ha spinto il major al di sotto 112.957 questa movimentazione domani potrebbe continuare nel caso in cui abbiamo un close sotto il minimo di erno esattamente a 112.35 quindi con un close sotto 112.35 potremmo andare a ipotizzare un eventuale movimento ribassista fino al prossimo target posizionato insomma verso un po' più sopra del prossimo supporto che andrà ad incontrare il prezzo a 111.625 mentre invece per quanto riguarda il cable la situazione vedete qua siamo ancora al di sotto questa zona di supply esattamente sotto a 1.36569 siamo in una fase coincidata di congestione vedete questo si vede anche in ottica giornaliera siamo sempre all'interno di questa della candela rossa questa qua di cui io ho tracciato in massimo e in minimo con queste due linee verdi e fino a quando ci troviamo qua dentro praticamente io preferisco quindi stare lontano dal cable non operare ok signori io vi ringrazio per l'attenzione grazie mille ci aggiorniamo quindi domani mattina con la diretta live buonasera da tutti 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 buonasera da tutti